Siracusa Autogrill licenze a rischio 20 lavoratori, Filcams e CGL di niega procedura, convocare tavolo urgente. Nell'attuale contesto di crisi economica che attenaglia il nostro territorio arriva un secco di niego da parte della Filcams e CGL di Siracusa alla procedura di licenziamento collettivo avvienato dalla società Autogrill operante in provincia con tre punti vendita. Il rischio di lasciare sull'astrico circa 20 lavoratori impiegati nelle tre aree di sosta del Siracusano si percepisce concretamente. A tal proposito, la categoria sindacale del commercio afferente alla CGL Redosea, rappresentata dal segretario provinciale Alessandro Vasquez, con una nota richiede la convocazione di un tavolo urgente circa la grave problematica occupazionale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda Gulisano SNC esercente nell'attività di Autogrill vincolata incontrovertibilmente all'azienda Gulisano SAS già oggetto di procedure fallimentari. Per quanto sopresposto, continuano i vertici della Filcams e CGL di Siracusano e con l'intento di rendere nulli gli effetti della procedura azionata dall'azienda nel mese di ottobre, in quanto tale procedura non contempla informazioni dettagliate circa gli attuali assetti societari e comunque non sorretto dal giustificato motivo, si richiede al stimato ente di voler convocare urgentemente le parti al fine di addivenire a soluzioni che preservino la forza occupazionale.